E' stata inaugurata l'8 dicembre in piazzo di Cignia Voltri la prima panchina rosa per la prevenzione contro il cancro al seno. Quindi, dopo le panchine rosse contro la violenza sulle donne, a Genova arriva un altro arredo urbano colorato, ma questa volta per sensibilizzare la popolazione su un altro tema. La panchina rosa, simbolo della prevenzione contro il cancro al seno. All'inaugurazione hanno partecipato membri del municipio ponente, personale sanitario specialistico e nonostante il tempo inclemente, la cittadinanza. Sì, allora abbiamo con le nostre forze suggerito al municipio ponente l'istituzione della famosa panchina rosa. A Genova è la prima panchina rosa sul territorio, perché ne esiste solo una, ma è all'ist nell'oncologico giustamente di San Martino e Voltri aveva voglia, piacere, noi donne soprattutto di Voltri avevamo voglia e piacere di ricordare a tutte, a tutte le donne soprattutto, che la prevenzione può fare la differenza tra la vita e la morte. Per cui abbiamo proposto al nostro municipio, alla vicepresidente Lorella Fontana, questa nostra idea l'ha subito supportata per augurarci che questa panchina rosa sia veramente la prevenzione del territorio e di tutta Italia, di tutte le donne del mondo e che questo tumore sia sconfitto una volta per sempre. Grazie. Bene, vedo che c'è la collaborazione del Teatro della Tosse, in che modo collabora? Il Teatro della Tosse è stato disponibilissimo perché ci ha offerto gratuitamente l'uso del teatro per l'evento, diciamo, post inaugurazione panchina. È stato cortese perché è una cosa molto importante e ci ha aperto le porte senza chiedere nulla, soltanto per la voglia di lavorare per Voltri, lavorare per questo grosso progetto e collaborare con noi. Un simbolo nel centro di Voltri per ricordare a tutti, non solo alle donne, quanto sia importante prendersi cura della propria salute ogni giorno. La panchina rosa è arrivata sul territorio genovese, la prima panchina della regione di Giulia.